1. Albano e Romina Power Furiosi, scatta la denuncia, ecco cosa è successo alla storica coppia. 2. Albano e Romina Power Furiosi, scatta la denuncia, ecco cosa è successo alla storica coppia. 3. Annullato un concerto tedesco di Albano e Romina Power. Per il momento Albano Carrisi e Romina Power non stanno cantando insieme. Infatti la cantante americana è in California e si dedica ai suoi hobby, mentre il cantautore Salentino si divide tra Cellino San Marco e i concerti da solista. 4. Il maestro, dopo aver annunciato di voler continuare ad esibirsi sui palchi, ha deciso insieme all'ex moglie di realizzare nuove tappe in giro per il vecchio continente. 5. Tra i vari concerti della storica coppia, uno è stato annullato magicamente dagli organizzatori. 5. Per quale motivo? Andiamo a vedere cosa è successo?. 6. Albano e Romina Power annunciano una denuncia per gli organizzatori del concerto. 6. Il 30 maggio del 2019 Albano e Romina Power dovevano tenere un concerto in Germania, precisamente a Dortmund. 6. Già lo scorso anno la storica coppia aveva realizzato un concerto nella città tedesca e non c'erano stati problemi. 7. Ora, invece, i due artisti attraverso i loro canali social e di fanpage dedicate a loro, hanno dato una brutta notizia che non farà piacere ai loro numerosi fan. 7. Cosa è successo? In pratica la tappa in questione senza un motivo evidente è stata annullata. 8. Naturalmente Albano e Romina Power hanno fatto sapere che ricorreranno per le vie legali. 9. Già in passato era accaduta una cosa del genere, ovvero il 29 dicembre 2018 senza che nessuno avesse avvisato i due artisti. Le scuse della storica coppia. 11. Naturalmente Albano e Romina Power si dicono dispiaciuti per quanto accaduto perché per colpa non loro non riusciranno a realizzare il concerto a Dortmund. 11. I due artisti, inoltre, insieme a loro staff faranno il modo di far ottenere il più presto possibile il rimborso del biglietto. 12. Sicuramente non mancheranno altre occasioni per cantare i loro celebri brani nella città tedesca. 12. Albano Carrisi demolisce Luigi Di Maio, che pene reddito ai lavativi, definitivo. 13. Lo stato su WhatsApp di Albano Carrisi recita, 14. Ciao. Ti auguro un bel carico di felicità. 14. Virgola e al telefono risponde con hello. 15. Accompagnato da un tono di voce allegro che non tradisce la delusione per essere finito nella blacklist di coloro che non possono entrare nel paese ucraino. 15. La speciale lista, compilata dal Ministero della Cultura in base alle richieste del Consiglio di Sicurezza e Difesa Nazionale, 15. Dei servizi di sicurezza e del Consiglio della TV e Radio Nazionali dellUcraina, è una condanna insensata. 15. Il caso, che ha avuto risonanza mediatica mondiale, non è ancora prossimo a una soluzione. 16. Albano, si è dato una spiegazione del perché? 16. State lavorando per risolvere la situazione? 16. Sì, ci sta pensando il mio avvocato. 17. Speriamo torni tutto come era, altrimenti peggio per loro che non mi avranno più lì in concerto. 17. Dopo lei, anche Cutugno è finito sotto accusa. 17. A Kiev città con un folto elettorato di destra, NDR un uomo gli ha mostrato fiero il saluto romano. 18. Crede che se il concerto si fosse tenuto a Donetsk storicamente di sinistra, NDR sarebbe stato diverso? 18. Ho sentito di Toto. Io non lo so, ma non ho mai giudicato la politica interna altrui perché sono rappresentanti voluti da un popolo che ha votato. 19. Delle differenze di destra e sinistra dellUcraina non mi sono mai interessato e non sono additabile come pericolo per la nazione perché io non faccio politica. 19. Io faccio musica. Ha ricevuto messaggi di solidarietà? Sì, moltissimi, specie dai politici. 20. Mi ha fatto molto piacere. È soddisfatto dalle politiche e del governo Lega 5 Stelle? 21. Io sono apartitico, il mio partito è quello del Papa che grazie al cielo risiede in Italia. 22. A me piacciono le persone che si danno da fare per migliorare il nostro paese, che ho come l impressione sia ormai agli sgoccioli. 23. Quale tipo di persone le piacciono? 23. Matteo Salvini. 23. Ho avuto modo di tastare lOdio che viene provato nei suoi confronti, ma lavora per il bene dellItalia. 24. Io mi detti da fare per lEspolzio. Amore per lEspolzio. . Ad esempio? La cultura del lavoro, in Cina sono degli stacanovisti, in Giappone si rifiutano di scioperare per continuare a lavorare. Qui ormai ci si è abituati a fare sempre e comunque il meno possibile, non si ha più voglia di lavorare. Quindi il suo giudizio sul reddito di cittadinanza. È negativo. Aiutare i poveri è fortemente cristiano, aiutare i fanulloni non lo è per niente. Molti pensano che l'Italia sia stata svenduta alla Cina. Questi accordi devono essere regolamentati a dovere, ma possono portare grandi cose. Cosa ne pensa della questione migranti? Quello che sta accadendo in Siria, con tutti quei bambini che sembrano non potere avere un futuro, è disarmante. C'è un senso di violenza contro l'umanità di questi tempi. Anche lei è stato un migrante, molto tempo fa. Sì, fui costretto a lasciare la mia terra per trovare fortuna altrove, dunque conosco la condizione psicologica di queste persone. Io sento spesso la mancanza della mia terra, ma ho opportunità di ritrovarla. Mentre loro sono costretti a lasciarla e non vederla più. Sono ormai celebri alle cronache i casi di Ciotti e Siwec. Sarebbero dovuti sbarcare prima? Io sono dell'idea di aiutarli nel loro territorio, perché il problema è lì. Le persone possono essere accolte, ma è il ciclo delle partenze che deve trovare una soluzione. La loro realtà è devastata e bisogna aiutarli a trovare una normalità affinché possano continuare a vivere lì. Molti problemi, però, nascono dalle razzie precedenti che hanno costretto alla povertà questi paesi, sfruttandoli per i propri interessi. È di accordo? In parte. Credo che sia una delle cause di questa situazione, ma certamente non è l'unica, ora servono azioni vere di pace. Bisogna arrivare lì con un ramoscello di ulivo e aiutarli. Come vede la scena politica di oggi? Quando guardo i cosiddetti salotti televisivi fatico a capire, come chiunque. Tutti si attaccano, tutti si insultano in continuazione. Lo spettatore è disorientato, non ci è più l'eleganza dialettica di una volta. C. È una perdita costante di valori nella politica attuale. Tura parte, sta lavorando a nuovi progetti? Sì, un paio di album. Uno mio personale, è un con Romina. Un anno denso di impegni. Sì, per il progetto con Romina ci serve ancora del tempo, voglio che siamo totalmente di accordo sui brani da proporre, ma è l'intenzione di lavorare ancora insieme ci è. Con la signora Power, quindi, è tutto ok? Assolutamente sì. Stiamo per diventare ancora una volta nonni, la nostra famiglia è unita. Non ci è motivo per non andare di accordo. Non ci è motivo per non andare di accordo.